Questo piano di spazzetti, particolarmente da noi, la macchina gradualmente va in accelerazione, si avvantaggia Revolver attaccato da Rondoni Jet con Rihanna All D2, il passaggio ai primi due centimetri per Rondoni Jet con 14 sullezio, Revolver attaccato all'esterno, Rihanna All D2, poi Rihanna All D2, poi Rihanna All D2 all'esterno, Ramanna Atti in cura al gruppo. Passaggio rispetto alle tribune, sono 30 con i primi 4 centimetri, Rondoni al comando, subito da Rihanna All D2 all'esterno, Rihanna All D2, poi Rihanna All D2, ancora Rihanna All D2 all'esterno, Ramanna Atti a cura il drappello dopo la penultima curva. 646 schiarzio, 800 completati 1-1 schiarzio, Rondoni inventato, in un vantaggio, Rihanna All D2, si trova ad avvicinare, rivolgono in vingole specchiato, provi a Mello di spotto, riba il Ramanna, letto a curta alle tribune, con una lunga curta che prova ad impalzare Rondoni Jet con il quale provi a vinta la cadenza, quindi su 3 ultima frazione, 16 abbondanti per il primo chilometro, Rondoni in vantaggio, provi a Coppio, rivolgono in due Rihanna All D2, arriva a Mello di spotto, forza Coppio composta da Rihanna All D2, un anno nelleafe, 4 milioni, con Rondoni in vantaggio, rivolgono in vantaggio, rivolgono di rincarno, all'area di gimpopo, banca in poca, in terza rispetto, in parta a Mello, dentro di a Mello, il resto della retta di Ijest, con Rondoni in vantaggio, sposta, rivolgono in trova l'attacco, rivolgono attacco, rivolgono in semplice, roughرب, rivolgono in 150 metri, al risolto a suo favore, sul rongione poi l'anaolla al terzo libero